destra è troppato cosa cazzo bravi che grossi ed ero accecato oddio col fucile nel petto si è accacciato nella stanza guarda lo vedi da quel coglione spara attraverso il muro ma anche dalla botola lo fai c'è un vantaggio e no niente è andato a storare era vinto ma ha trovato la vuole ma perchè non muore è andato è andato è andato no 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 prendi il defuser buttati dalla botola non hai più ok planta qua dietro bravissimo ci hai provato vaffanculo troppo un coglione sta tizia veramente grande non ammazzano non ammazzano non ammazzano non ammazzano non ammazzano ma ammazzano col pompa Grimm oh quanto schifo è Kurt guardalo Kurt guardalo Kurt Kurt vuoi interrogare sopra di te Kurt occhio chiude che cosa fa che risponde al colonnello va sono morto come gli rispondo raga la palestra è completamente vuota completamente vuota come immaginavo perchè sono bestia venite venite arrivo arrivo gogo montai gogo power ranger c'è manco la rotation si sono fatti sti cani planta ma che cazzo ho visto ho visto cui andò a destra con vento planta planta nel casino niente proprio eh mi deve dare il tempo eh mi deve dare il tempo eh sono dietro la bomba se vuoi mi ha pressare occhio sta ancora lì si 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 incula adesso vedrai guardami la destra lampo in arrivo passiamo luce mi hai accecato mi hai accecato lancia un fumageno lancia un fumageno ma quanto è dura si 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 ha 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 gli hai fregato l'arma si si merda data lì violenta a me con quello mi ha secato ahah questo è qua no woods arriva da dovevi farlo dietro attento lasciami stare cerca di fare l'unico è lì in fondo grande e c'era un altro resti attento vabbè intanto mi resti eh e dall'altra parte prima arrivano tutti e due dall'altra parte no è veramente uno solo ah no ok niente no non l'ho visto completamente ho sparato a sentimento dove a spararci si piedi gli a spararci no no era colpo singolo perché invece che cambiare le le munizioni della del fucile si hai cambiato quella della palestra no ho cambiato quella del fucile ho messo colpo singolo invece di cambiare la palestra vai furto planta 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 copri la porta grillo vai sulla porta chi è che è l'ultimo però muta ma infatti sei morto eh cazzo anche se ti chiazza il non devi chiedere la porta grimm non la stai chiudendo vai più indietro no vai più avanti basta più avanti no più avanti guarda che buco che c'è ma certo proprio lo cocco blocca ascoli di corto prova a fare il giro che fa? no non può andare da nessuna parte non fa niente non fa torrello no che c'è che cosa triste che è impotente non può fare l'uno se ti piazza il modem vicino sei morto qui vaffanculo crepa niente sono di merda curto destra sei morto curto curto madonna e ora è arrivato il momento di allarmarsi mia dio la mina la mina ma che ca... sto steso sta zitto un attimo shhh basta basta madonna che panico sta tornando sposta ti sta tornando minchia raga porca puttana dietro di te credo franky eh ohhhh cazzo vinto qui verso lì franky ma è scena il camino va bene franky non fare un cazzo stai sdraiato ci penso io stai sdraiato stai sdraiato stai sdraiato lì franky porco vabbè ma... vaffanculo franky eh ma dillo al lucernaio non lì 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 che non lo vedo dove cazzo è lì fottiti dac dac da dac cc działa 15 secondi pain dammito non avcato io proprio di caso no non ci credo ma l'hai visto? si si Sì Sto plantando sono morto No 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 Ok no Cosa fa sto qua confuso? Ha finito le posizioni del 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 Nasconditi nasconditi aspetta che vado a replantare Non cazzo Vaffa in culo Ottimo Oh mio dio il cuore a mille Mando io un drone Tra l'altro non hanno messo nessun sistema di difesa Cosa? Noo Minchia Minchia Cosa giuse minchia Eh che aveva fatto il giro ovviamente mentre dronavo Porco Per questo non dronavo mai Cazzo No c'era un drone dentro Alla stanza lì che stavo dronando io Acceso E nessuno diceva niente Non so di chi era quel cazzo Oh Eh oh Chi è che c'ha il drone nella stanza lì? Quale stanza? Quella di fronte all'obiettivo Eeeh Sarà da pranzo Io Si Eh stavi guardando il drone e mi hai detto un cazzo No non lo stavo guardando io Ti giuro Era Cesaro Rosso Vabbè Fate plantare qui questo Se Metti una Claymore poi Il laser di sotto c'è Che scherzo Qualcuno Un 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 Questa Un 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 Stai defusando, stai defusando? Scuso Nooo Minchia, curto, veramente Veramente curto, madonna santa Non sentivo perché parlavate voi Te l'abbiamo detto che stai defusando Poi si sentiva chiaramente, dai Poi erano in tre, ragazze Erano tutte e tre lì Vediamo che c'è dentro questo scudo Niente C'era Frost Qui dentro, curto, hai dronato? Sì, t'ho detto nella stanza delle scoppe C'è Frost dietro lo scudo Ma si sarà spostata Pesa Valkyrie Bravo Ciao Frost Ma poi stanno andando avanti le sfide Ehm, ma sai che non l'ho visto Sai che non lo so, dato che non me l'ho fatta piccare mai? No, quella di Twitch, no Ma come se la ride, ti strapporrenea Poi vediamo se ride Esplorando il corpo umano Quante cose che impariamo Cuore, muscoli e polmoni Che spettacolo Oh nooo Guardi con un attimino un po' più di gioia e di prio Poi ci sono tutti lì No, 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 scassavo 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 E i cartoni col maestro mi diverto, siiii Te la ricordi a memoria, te la ricordi a me I cartoni col THC No Gritty Grimm Madonna, curto Volevo lanciarti quella e invece ho sbagliato Vabbè, lanciami una impact Vaffanculo Volevo lanciarti il belè 5 secondi left